Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Sottoscacco, la trasmissione di Saronno TV che vi sta conducendo verso le amministrative che si terranno il 31 di maggio proprio qui a Saronno. Il tempo comincia a stringere e quindi, bando alle ciance, iniziamo subito col presentare gli ospiti di questa sera. Dario Lonardoni, candidato sindaco per la lista civica Saronno al Centro. Buonasera. Buonasera. E a fianco a lui abbiamo il capolista di Saronno al Centro, Paolo Strano. Buonasera. Buonasera. Benissimo. Per rompere il ghiaccio, come si dice, prima di passare alle tematiche pregnanti che stanno avvolgendo i saronnesi in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, parliamo di scacchi. Come siete messi a gioco di scacchi? Direi quel tanto per poter vincere con mio nipotino. Io sono un fai-da-te iniziato da poco, diciamo. Mi sono accostato. Tra le varie pedine del gioco degli scacchi, in quale vi riconoscete di più? Ma se parliamo a livello personale o a livello di squadra, direi che a livello di squadra ci identifichiamo nella regina. Noi vogliamo muoverci liberamente sullo scacchiere in tutte le direzioni senza essere condizionati minimamente. Condivido proprio questo, proprio perché è lo spirito con cui è stata costruita questa lista civica Saronno al Centro, essere indipendente dai partiti e avere una libertà di scelta e di movimento. Allora, la trasmissione Sotto Scacco nasce innanzitutto per scoprire il lato umano dei candidati sindaco, perché molto spesso ci si concentra sulla politica, sugli aspetti amministrativi, però è importante per i cittadini conoscere chi poi andranno eventualmente a votare in sede elettorale. Dario Lonardoni, una presentazione? Rapida. Io sono nato a Verona nel 1947, sono venuto a Saronno nel 1967 per motivi di lavoro e per consentire attraverso il lavoro di potermi pagare gli studi. Sono riuscito a realizzare quello che era il mio obiettivo, mi sono laureato in fisica, ho iniziato a lavorare in ferrovie a nord all'età di 19-20 anni e ho lasciato le nord con la posizione di direttore generale. Passioni particolari? Passioni particolari, c'ho un po' l'enologia, un po' la cucina. Piatto preferito? Piatto preferito, mi piacciono le cose semplici, un bel spaghetto con il pomodoro fatto bene, sono le cose semplici che sono sempre più difficili a farle in modo corretto. Paolo Strano? Io sono venuto a Saronno nel 1975, sono siciliano, sposato, due figli, tre nipotini, laureato in fisica nucleare, la mia attività è svolta qui a Saronno da quando sono arrivato, ormai 40 anni, 45 anni che mi trovo a Saronno, i miei figli vivono a Saronno sposati con dei saronnesi e quindi... Quindi abbiamo una lista con due laureati in fisica. Meglio di così. Ok, ora passiamo al tema dell'amministrazione Porro. Sono passati cinque anni, dal vostro punto di vista, di cittadini prima di tutto e di frequentatori di Saronno più che da politici o da amministratori, cosa è andato bene e cosa magari è andato meno bene? Ma io credo che valutare un quinquennio di conduzione di una città attraverso degli episodi non sia corretto, quindi valutarlo nel suo complesso. Quello che è mancato secondo me nella conduzione del dottor Porro è stata una mancanza di progettualità, che non riesco a capire se era una mancanza vera o se è stata la non partecipazione, rendere partecipi la cittadinanza di quello che era il suo progetto. E quindi si è vissuto un po' il suo periodo come tanti interventi spot non collegati tra di loro e che hanno lasciato un po' di amaro in bocca e il risultato finale è una città che tutto sommato nella quale non ci riconosciamo. Vogliamo una città migliore e ritengo che l'amministrazione Porro questo obiettivo non sia riuscito a perseguirlo. Concordo pienamente con quanto detto da Dario, aggiungerei che forse sono state abbandonate da questa amministrazione quei valori pregnanti che magari andremo a discuterne dopo dal punto di vista della sicurezza, pulizia della città e tutto, che chiaramente danno al cittadino saronnesse quel senso di non vivibilità della città. Passiamo alla vostra storia politica. Abbiamo sentito Lonadoni che è la prima volta che prova questa strada, mentre poi Paolo Strano sentiremo cosa avrà da raccontarci. Cominciamo dal candidato sindaco. Sì, io non ho una storia politica, è la prima volta che mi affaccio, non vorrei chiamarlo affacciarmi alla politica, vorrei affacciarmi all'amministrazione di un comune e questo la ritengo importante ed è la scelta per cui sono entrato in Saronno al centro, proprio per questa distanza dalla politica. E vorrei lasciare un segno in Saronno per una ricostruzione di Saronno, non tanto per una carriera politica che assolutamente non mi interessa. quindi l'input, quello che mi ha fatto, la molla che ha fatto scattare, l'accettare la candidatura è quello di poter lasciare ai miei nipoti la Saronno nella quale io ho vissuto e ho formato e ho mantenuto la mia famiglia, dove la Saronno mi ha dato tutto quello di cui avevo bisogno e vorrei che fosse così anche per i miei nipoti. Io provengo da Alleanza Nazionale, poi traghettato nel PDL, dove sotto l'insegna del PDL sono stato eletto nelle ultime amministrative del 2010, però circa due anni e mezzo fa con un altro consigliere comunale ci siamo resi conto che ormai i partiti, gli interessi dei partiti sovrastavano gli interessi della città, cioè si stava attraversando un momento di insicurezza, un momento dove le persone facevano fatica proprio a raggiungere a fine del mese e ci siamo accorti che i problemi dei partiti nazionali erano tutt'altro che non proprio questi bisogni dei cittadini. Allora in un momento abbiamo preso la decisione di dire usciamo dai partiti, io e quest'altro collega, formiamo allora un gruppo consigliare civico che abbiamo chiamato proprio Saronna al Centro. Da lì poi le nostre idee sono state condivise da una platea sempre più ampia di persone ed ecco che poi nasce la lista civica Saronna al Centro con cui ci presentiamo in queste amministrative. Ecco uno dei quesiti che spesso il cittadino si pone è quanto sia importante o il sesso oppure l'età per un candidato sindaco. Ecco il vostro pensiero a riguardo è importante essere giovani piuttosto che più di esperienza, essere uomo o donna? Io credo che l'importante è costituire una squadra, una squadra nella quale ognuno abbia ben preciso il proprio ruolo e che abbiano un obiettivo comune. L'età è evidente che se confrontiamo l'entusiasmo con l'esperienza sono due curve che se le mettiamo sull'asse delle ascisse, l'età, sono due curve che c'è l'entusiasmo altissimo all'inizio e si abbassa sempre di più andando avanti con l'età, mentre per la curva dell'esperienza si parte da zero e si sinalise. Il punto di incrocio di queste due curve dà l'ottimo, quindi c'è bisogno dell'entusiasmo del giovane e c'è bisogno dell'esperienza della persona matura. Per quanto riguarda l'aspetto femminile, la donna ha una caratteristica completamente diversa dall'uomo, vede lo stesso problema su una sfaccettatura diversa, per cui ben venga questa esperienza femminile, questo contributo a leggere i problemi in chiave diversa, è il motivo per cui noi abbiamo cercato di mettere nella nostra lista nove amiche invece del limite delle otto che erano necessarie. Io concordo nel senso che non è un problema né di età né di sesso, ma la voglia di fare per il bene comune che deve contraddistinguere un candidato. Avendo questo, allora veramente è la persona giusta, che sia maschio, femmina, giovane o di una certa età, non è importante. La voglia è di fare il bene di Saronno e dei saronnesi. Benissimo, dopo questa chiosa introduttiva dove abbiamo scoperto la natura della persona Lonardoni, della persona Paolo Strano prima di tutto, entriamo nelle tematiche che più sono discusse dai cittadini, che più ci hanno segnalato e che quindi abbiamo deciso di raccogliere all'interno di questa sorta di questionario sulla vivibilità e sulla cittadinanza di Saronno. Partiamo subito dall'aspetto sicurezza, forse una delle cose che i cittadini reclamano di più in questo momento, al di là, ripeto, dei partiti politici, ma è più una sensazione che è nelle teste dei nostri concittadini. Il problema dov'è e soprattutto se ci sono dei metodi e se avete dei metodi per poter risolvere questa situazione. Io credo, senz'altro negli incontri che abbiamo fatto, ma non era necessario fare questi incontri per capire che Saronno soffriva di questo problema della sicurezza, perché per primi l'avvertiamo, io credo che il problema sicurezza sia sempre dovuto a una causa fondamentale. quando si lascia spazio nel territorio, si lascia spazio nel vissuto, si liberano delle piazze, qualcuno poi le viene a occupare. In questo caso sono state occupate dalla delinquenza comune. Ora, quello che dobbiamo fare è rendere vivibile la città, perché quando è vivibile la delinquenza ha meno elementi per sopravvivere, dobbiamo applicare le leggi, questo è fondamentale. Terzo, dobbiamo fare tanti piccoli interventi, che non sono solo quelli che affidiamo alla Polizia Municipale, piuttosto che ai Carabinieri o alla Polizia di Stato, ma sono quelli piccoli interventi che assieme, per esempio, la stazione e il punto critico di Saronno, la stazione che è stato l'elemento che ha creato lo sviluppo di Saronno all'inizio degli anni del Novecento, è diventata il ricettacolo della delinquenza. Ecco, sulla stazione di Saronno dobbiamo fare degli interventi massicci, dobbiamo in qualche modo fare degli interventi per limitare l'accattonaggio, dobbiamo però applicare le regole e le leggi che abbiamo, rispettando quelli che si rispettano e adeguandoci a quelli che si adeguano alle nostre leggi. Io aggiungerei che l'insicurezza che noi cittadini salonesi stiamo vivendo è data dalla somma, dalla globalità di più aspetti, non solo i fatti che sono così eclatanti che succedono nella zona della stazione. Però ci sono anche tante altre piccole situazioni nella vita quotidiana che ci danno questo senso di insicurezza, per esempio la mancanza fino a poco tempo fa, per esempio i parchi cittadini erano, diciamo così, sorvegliati dalla battuglia dei nonni amici e già la presenza di queste due persone che giravano per i parchi cittadini, davano un senso di sicurezza alle mamme che portavano i bambini nei parchi a giocare, specialmente con l'avvento della bella stagione. La mancanza dei nonni amici dinanzi alle scuole, all'ingresso dei bambini delle scuole elementari, sopperita quando si può con la presenza della polizia locale, ma non sempre questo avviene, accresce questo senso di insicurezza. Quindi l'insicurezza è qualcosa di più ampia che non limitandola solo alla stazione. I borseggi che avvengono anche all'interno del mercato cittadino del mercoledì, anche questo contribuiscono a dare questo senso di insicurezza. E allora è lì che bisogna intervenire anche su queste piccole cose che poi tutte messe assieme fanno accrescere questo senso di insicurezza. Ecco, invece la vostra posizione in merito al flusso migratorio che sta aumentando sempre di più è come affrontare non solo gli immigrati clandestini che fuggono dalle loro terre, ma anche come risolvere l'accattonaggio ai nomadi che in corso Italia, soprattutto negli ultimi tempi, presenziano costantemente. Ricordiamo che abbiamo un campo nomadi da più di 10 anni, in via D'Eledda, che comunque non ha mai destato, almeno da molte persone, problemi particolari, però c'è anche questa questione appunto dell'accattonaggio. Una posizione in merito? Sull'accattonaggio io credo che dovremmo prendere una posizione ben precisa come comune, cioè non possiamo consentire di andare in corso Italia, in via San Cristoforo e trovare in continuazione persone che, non dico che disturbino, ma in qualche modo danno un senso di poca tranquillità. Dovevamo prendere un provvedimento e credo che sia necessario fare un'ordinanza che limiti in qualche modo l'accattonaggio. Per l'immigrazione? Per l'immigrazione? L'immigrazione è un problema nazionale, direi che anzi è un problema europeo. Finché noi facciamo da filtro per l'Europa, per quanto riguarda l'immigrazione, dove noi ci tratteniamo i delinquenti e l'Europa si prende quelli che hanno bisogno, che hanno voglia di lavorare, lavorano, fa comodo senz'altro l'Europa e questo problema ci rimarrà in casa per sempre. Poiché a livello locale si possa fare qualcosa nei confronti di queste persone, io credo che se queste persone, ripeto ancora quello che dicevo prima, rispettano le nostre regole e ci rispettano, non vedo perché non possano integrarsi. Certo che se non le rispettano e non ci rispettano, dobbiamo applicare le leggi che tutt'ora ci sono e non è il caso di inventarcele per metterle in condizioni di non l'affastare. Poi allo strabo, cosa da aggiungere? Aggiungere ben poco, perché già ha detto tutto Dario, c'è da dire che bisogna rivedere anche certe leggi nazionali, perché molte volte anche le forze dell'ordine si vedono impotenti rispetto a determinate leggi e prendono l'extracomunitario che non è in regola, lo portano via e magari dopo due giorni, se non prima, ritorna nuovamente sulle strade. Quindi è un discorso che va oltre il comune di Saronno, bisogna rivedere anche determinate leggi a livello nazionale. Ecco, direi sotto l'aspetto per esempio dei nomadi, se vengono definiti nomadi c'è un motivo, perché si muovono sul territorio. Ora, se i nomadi vengono accolti in una comunità come la nostra a Saronno, è evidente che devono starci un certo periodo e dopo un certo periodo se ne devono andare, non possono diventare stazionari, perché allora non sono più nomadi. Allora, o facciamo applicare queste regole che sono applicatissime in qualsiasi stato d'Europa e che in Italia mi risulta che siano difficilmente applicabili, se non addirittura non applicate. Ecco, un'ultima domanda prima della fine del primo blocco. Le aree dismesse, la riqualificazione, i lavori sulle aree dismesse potrebbero in qualche modo risolvere questo problema o quantomeno alleviarlo? Senz'altro le aree dismesse sono un elemento critico per la città, perché sono un punto dove la delinquenza, dove si rifugiano, dove vanno a dormire e quindi una riqualificazione delle aree dismesse è una cosa fondamentale anche per dare un contributo alla risoluzione di questo problema. Certo che le aree dismesse a Saronno sono un'opportunità per Saronno, perché se riusciamo a fare delle scelte corrette sulle aree dismesse, riusciamo veramente a dare quel contributo alla rivalutazione di Saronno. Ecco, Saronno al centro ha già qualche progetto in mente per quanto riguarda le aree dismesse? Un progetto specifico per le aree dismesse? No, ma è un progetto che deve essere inquadrato, chiamiamo, nella progettualità, dicevamo, proprio discutevamo tra di noi, come vogliamo far diventare Saronno magari da qui a vent'anni, perché praticamente il discorso delle aree dismesse è una grossa scommessa che va a inquadrarsi però in un progetto molto più ampio, non dobbiamo vedere oggi per domani o dopo domani perché correremo i rischi di prendere delle decisioni che poi magari a lungo andare non si può più tornare indietro. Allora bisogna avere prima un progetto su cosa vogliamo fare di Saronno, come vogliamo far diventare Saronno da qui a vent'anni e in questo progetto globale inquadrare anche poi cosa bisogna fare di queste aree dismesse. Benissimo, siamo giunti alla fine del primo blocco, torniamo tra poco dopo un break, sempre qua con Sottoscacco. Bentornati dopo il break, siamo ancora qui, siamo ancora a Sottoscacco. Abbiamo concluso il blocco precedente parlando di sicurezza, di extracomunitari, di aree dismesse, come rivalutarle. Ora veniamo ad un'altra tematica che sta a cuore ai saronnesi, soprattutto le tasche dei saronnesi, parliamo ovviamente delle tasse comunali. Ci sono queste quattro paroline magiche che terrorizzano la cittadinanza e non solo quella di Saronno, chiaramente, partendo dalla IUC che comprende Tasi, Tari e poi la famosissima celeberrima IMU. Da questo punto di vista la vostra amministrazione eventuale, come affronterà il problema e se potrebbe esserci la speranza, so che è un problema nazionale, però potrebbe esserci la speranza magari che un saronnese potesse risparmiare qualcosina. Ma credo che l'unico modo per far risparmiare qualcosa ai saronnesi sia quella di incominciare a spendere bene e spendere meglio, perché questo è l'unico modo per far tornare la bilancia in equilibrio senza andare a chiedere al cittadino ulteriori soldi. Per poter spendere bene bisogna rivedere le modalità di spesa di Saronno. Io credo che lo spazio per spendere meglio ci sia. Fondamentale, ed è il perno del nostro programma, è la sussidiarietà. Quindi trovare quegli interventi che, fatti assieme al privato, ci consentano di risolvere dei problemi dei cittadini senza la necessità che il Comune esborsi dei finanziamenti sostanziosi, ma facendoli mettere dal privato. È evidente che è un percorso sempre molto delicato e un equilibrio molto instabile e quindi molto criticabile. Per poter andare su questa strada bisogna avere un progetto molto ben chiaro, in maniera che tutti i cittadini comprendano delle scelte che si vanno a fare in questo compromesso tra pubblico e privato. Ma ritengo che questa sia l'unica strada che ci possa consentire di promettere ai nostri cittadini che le tasse non saranno aumentate e forse riusciamo anche a ridurle. Parere di strano? È indubbio che i trasferimenti statali o regionali nelle casse comunali vanno via via diminuendo di anno in anno. Quindi parlare di una totale abolizione delle tasse è solamente puramente campagna elettorale e puramente soltanto campagna politica. Ma giustamente come diceva Dario, rivedere in un certo modo la spesa, perché è vero che sono pochi i soldi che ci sono nelle casse comunali, però è anche vero che sono stati spesi male. Quindi rivedere la spesa affiancandola alla sussidiarietà, cioè al contributo anche dei privati, una collaborazione pubblico-privato potrebbe far sì che le tasse, non dico di alzerarle, ma che sicuramente potrebbero essere ridotte, sicuramente questo sì, proprio perché dove non arriva il pubblico potrebbe arrivare il privato e allora ecco che si chiede minor sacrificio poi ai cittadini sotto questo punto di vista. Saron è fatta anche da tantissimi giovani, tantissimi ragazzi che partono con la propria esperienza a scuola. Ecco, il servizio pubblico, il servizio scolastico saronnese, va tutto bene? Secondo voi c'è qualcosa da sistemare o è tutto ok? Io devo dire che la conoscenza specifica delle scuole saronnesi è un po' datata, la mia conoscenza è datata quando i miei figli andavano a scuola e devo dire che io in quel periodo era un periodo che ritenevo la scuola saronnese a un buon livello, migliorabile ma a un buon livello. Credo che in questi anni si sia un po' sofferto sempre per quel discorso di finanziamenti, di difficoltà generali che ha dovuto sopportare l'Italia e non solo saronno, però ritengo che saronno sia ancora un centro che rispetto alle scuole, sempre dico, sempre migliorabili ma sia di un buon livello. Strano, le strutture scolastiche? Allora, le strutture scolastiche noi dobbiamo distinguere perché nel panorama scolastico cittadino ci sono delle strutture scolastiche il cui mantenimento è in capo alla provincia e poi delle strutture scolastiche che sono invece in capo, il mantenimento di queste strutture in capo all'amministrazione comunale, sarebbero le scuole elementari e le scuole medie che fanno capo all'amministrazione comunale. Ad onore del vero qualcosa si è fatto in questi ultimi anni, perché precedentemente erano state abbandonate del tutto, rimane ancora parecchio da fare, però si è incamminato su questa strada per riprendere in mano queste strutture e quindi spero che anche per il futuro possiamo continuare su questa strada. Poi dalla scuola il giovane si trova catapultato nel mondo del lavoro, sappiamo quanto è difficile oggi inserirsi da questo punto di vista e non solo per i giovani, perché parliamo anche di tanti 35 anni, 40 anni che per via d'Italia hanno perso il posto di lavoro e si ritrovano di nuovo catapultati nel mercato a cercare un'occupazione. Ecco, dal punto di vista dell'opportunità di lavoro il comune cosa può fare? Credo che il comune quello che può fare è agevolare tutte quelle che sono le iniziative private che si vogliono installare a Saronno, agevolarle sotto il profilo di rendergli meno difficoltoso possibile tutta la procedura burocratica e anche le spese da sostenere inizialmente se questi insediamenti creano posti di lavoro. Questo è il compito dell'amministrazione comunale. Certo non è il compito di trovare un posto di lavoro, ma facilitare chi può offrire un posto di lavoro. Concordo pienamente, non è il compito dell'amministrazione creare posti di lavoro, ma creare i presupposti affinché questi posti di lavoro possono essere creati, agevolando tutti coloro che hanno delle iniziative tale da poter creare nuove posti di lavoro, agevolandole dal punto di vista fiscale e dal punto di vista burocratico, perché soltanto in questo modo si possono incentivare gli investitori a venire a Saronno e a investire in Saronno. Prima di passare al discorso riguardante la viabilità, un'opinione lampo su quelli che sono i telos, i centri sociali che frequentano Saronno e non solo? Un'opinione in merito a questa tematica? Io credo che i centri sociali, vale un po' il discorso, se non voglio associare i centri sociali al problema che abbiamo parlato prima del disordine che si percepisce in Saronno, ma quando c'è il rispetto delle regole reciproche? Possono avere un'idea diversa della nostra, della società e delle situazioni cittadine, ma fin quando ci si rispetta reciprocamente e non si invade in maniera pesante, in maniera difficoltosa, quello che è il rapporto quotidiano non vedo perché non si possa convivere tranquillamente, sottolineo tranquillamente però no. Il rispetto delle regole, ci sono le regole, vanno rispettate da tutti, compresi anche i giovani dei vari centri sociali, dopodiché non ho nulla in contrario nei loro riguardi. Perfetto, parliamo di viabilità, è un altro tema rovente che negli ultimi giorni, negli ultimi mesi sta affollando non solo le persone che si trovano al bar, ma anche le persone sui sociali, insomma foto su foto, i lavori fatti, non finiti, finiti eccetera. La viabilità, cosa è andato bene in questi cinque anni di amministrazione e cosa si potrebbe aggiungere eventualmente in futuro? Anche qua credo che la sensazione che si avverte in termini di viabilità è la mancanza di una progettualità complessiva, quella progettualità di cui parlavamo prima per le aree dismesse piuttosto, non si percepisce gli interventi che si fanno a cosa sono finalizzati. Il 30 all'ora è finalizzato la viabilità o è finalizzato la sicurezza? Se è finalizzato la sicurezza dei bambini, se è finalizzato la sicurezza dei pedoni, delle biciclette, diciamo che quella non è viabilità, è dare una risposta a una sicurezza in certi quartieri. La viabilità è un'altra cosa, la viabilità sono le code che si formano, sono l'inquinamento causato dalle code e che questo va inserito in un contesto molto più alto. Io quando sento parlare di viabilità e non sento introdurre la tangenziale, non so come si chiama, la tangenziale nord piuttosto che la pedemontana, tutte quelle infrastrutture che sono al contorno di Saronno ma che devono dare una risposta e danno un contributo e in funzione di quello poi troviamo le soluzioni all'interno della città. Certo all'interno della città ci sono delle problematiche che vanno affrontate, ma secondo me non sono problematiche né molto costose né molto invasive rispetto all'attuale situazione, ma solo migliorate tenendo presente il contorno di quello che si sta verificando nel prossimo futuro intorno a Saronno. Parlando di viabilità non dobbiamo dimenticare che la città di Saronno è una città di attraversamento, il grosso traffico è dato soprattutto da questo traffico di attraversamento. Ultimamente in questi ultimi anni si è assistito a degli stravolgimenti all'interno delle strade cittadine, però forse si è commesso un errore da parte dell'amministrazione. Questi stravolgimenti sono stati calati dall'alto senza coinvolgere gli abitanti della zona, perché chi meglio di loro possono esprimere un parere nel senso di dire se è cambiare il senso unico su questa strada piuttosto che un altro, creare dei parcheggi in una strada piuttosto che un'altra possa creare dei disagi al quartiere oppure no. Noi abbiamo visto molte volte prendere delle decisioni e poi dopo 15-20 giorni rifare tutta la segnaletica, ricambiare nuovamente i segnali, il senso di transito e tutto. Questo vuol dire che mancanza di progettualità, cioè mancanza di coinvolgimento delle persone che abitano quella zona, che abitano quel quartiere. Loro sono veramente le persone che possono suggerire all'amministrazione di dire cambiamo in questo modo piuttosto che in un altro. Ecco allora la partecipazione dei cittadini. Un'amministrazione per poter governare bene non può fare almeno del coinvolgimento e della partecipazione dei cittadini. Benissimo. Sempre in relazione alla viabilità abbiamo ricevuto alcune segnalazioni su disservizi del trasporto pubblico locale. Da questo punto di vista avete ricevuto anche voi delle lamentele oppure... No, lamentele personalmente no. Io dico però che il servizio è regolato da un contratto, da una convenzione tra il comune e un privato. Devono essere fatti rispettati i detati di questo contratto e di questa convenzione. Quando non vengono rispettati il comune deve prendere posizione e farlo rispettare. Se il contratto non è adeguato va riadeguato attraverso una nuova gara. Questo vale non solo per il trasporto ma vale per qualsiasi servizio pubblico affidato a un privato. Vedete la pulizia delle strade, il trasporto pubblico e così via. Qualunque servizio affidato a un privato gestito da un contratto, il contratto poi deve essere rispettato e se no si prevedono anche delle penali e tutto, devono essere applicate anche queste penali. Un argomento curioso che però appassiona anche i saronnesi è l'assenza attualmente di un canile municipale a Saronno per l'accoglienza e per il rifugio per gli animali vagabondi. Da tanti anni si discute di questo problema del canile. C'è ad onore del vero dire che in questi ultimi anni l'amore verso gli animali sta crescendo in ognuno di noi, tant'è vero che si assiste sempre di meno all'abbandono dei cani e quindi il randaggismo presente a Saronno è minimale, se non addirittura quasi azzerato. L'importanza di un canile, io parlerei eventualmente, qualora ci fosse la necessità, di un canile sovraccomunale, perché creare un canile comunale tutto sulle spalle o a carico di un'amministrazione comunale, magari per due, tre, quattro cani randaggi, chiaramente la spesa è sproporzionata. Allora, creare un canile sovraccomunale in modo tale che possa così inglobare al suo interno i bisogni di tre, quattro comuni che gravitano tutti attorno a Saronno, allora però bisogna vedere se c'è proprio questa necessità del canile comunale. Ecco, parlavamo prima di attenuare il problema sicurezza proprio cercando di rivitalizzare la città di Saronno. Ecco, ci sono dei piani, ci sono delle proposte proprio per rendere la città più viva, più motivata? Pensiamo a feste di paese piuttosto che eventi pubblici. Ci sono idee per appunto riportare Saronno in vita? Senz'altro per portarle in vita dobbiamo essere attrattivi, attrattivi rispetto a quello che ci circonda. Ora è evidente che in questo periodo, in questi anni, i centri commerciali, la vendita online e tante forme di commercio nuove hanno portato a una minor frequentazione della città, però dobbiamo vivacizzarla attraverso degli eventi, degli eventi che devono essere però riqualificati rispetto agli attuali, cioè devono essere eventi che hanno una caratteristica ben precisa e che si differenzia da eventi che vengono organizzati da altre parti e quindi che diventano veramente di attrazione e possibilmente trovare quegli eventi che abbiano quelle caratteristiche di creare anche comunità all'interno della città. Un compito fondamentale in questo, senz'altro il comune deve fare la sua parte, senz'altro i commercianti devono in qualche modo suggerirci il modo per affrontare questo problema, perché credo che i commercianti siano l'anima poi di questo elemento di attrazione e anche quelli che alla fine ne usufruiscono in termini di benefici di queste persone che arrivano da noi. Saranno lei proposte in particolare? No, io proposto nel senso che quando si parla di rivitalizzare la città, chissà perché nell'idea comune si pensa sempre solo al centro storico. Io dico che l'amministrazione comunale, proprio su questo tema specifico, deve preoccuparsi anche dei quartieri, delle zone limitrofe al centro storico, non rivitalizzare solo ed esclusivamente il centro storico che è la parte più importante della città, ma noi abbiamo addirittura dei quartieri, vedi la Cascina, vedi il quartiere Matteotti, anche queste zone della città hanno bisogno di essere rivitalizzate, quindi l'amministrazione comunale deve preoccuparsi anche di portare degli eventi in queste zone, perché anche i cittadini che abitano in queste zone hanno necessità e hanno il diritto di avere un quartiere vivibile anche sotto questo punto di vista. Ecco, il tempo vola, siamo quasi giunti alla fine anche questa sera di sottoscacco. Prima di chiudere, in 30 secondi, perché il cittadino saronnese dovrebbe mettere la croce sulla vostra vista alle elezioni? Io credo che fondamentalmente deve in qualche modo capire che stiamo dando un segno di svolta rispetto alla tradizione dei partiti, rispetto a quello che è stato il susseguirsi negli ultimi anni della gestione amministrativa di Saronno. Noi si siamo presentati dicendo mettiamo assieme l'esperienza politica, e qua abbiamo un rappresentante dell'esperienza politica, con un'esperienza manageriale, la mia, e cerchiamo di mettere insieme una squadra che sia in grado di gestire l'azienda comune di Saronno con quelle capacità, chiamiamole anche imprenditoriali, che caratterizzano una qualsiasi azienda. Un moto? Un moto penso che quello che ci ha contraddistinguo è per la rinascita di Saronno, giusto? Proprio noi vogliamo fare rinascere Saronno, e come dicevo prima all'inizio di questo nostro colloquio, quando dicevo che la lista Saronno al centro è sganciata dalla logica dei partiti, mi riferivo proprio a questo, le persone che convongono questa lista hanno un unico obiettivo, proprio questo motto, far rinascere Saronno, al di là delle varie logiche partitiche che possono scendere a dei compromessi, quindi ecco il motivo per cui i cittadini saronnesi devono votare Saronno al centro, perché sanno che stanno votando delle persone che hanno l'unico obiettivo, quello del bene della città. Siamo davvero giunti alla fine di questa serata di Sottoscacco, non ci resta che augurarvi una buona visione con i programmi che seguiranno la nostra trasmissione e ci vediamo alla prossima puntata, a presto! Grazie a tutti i nostri spettatori e ci vediamo alla prossima!